Grazie. È tardissimo! Il Natale inizierà senza di noi. Passatevi qui e arriverete in tempo. Vieni! È Pardinton! Ciao! Quello è il mio sandwich. È bellissimo! Dai, andiamo! Torri! Presto, presto! Tutto il cinema che ami, a casa tua. Accendi la magia con Sky Cinema. Qui è un'una? No. Ho un'una? Che è un'una? Ci sono di un'una?